Guarda, sei bloccata apposta! Potevi andare avanti! Vai, momento ludopatico su Heyday! Ti prego! Sì! Let's go! Questo video è dedicato a tutte le mamme dei ragazzi che mi seguono e a tutte le mamme che mi seguono. Ciao mamme, ciao mamma. Ho sempre visto Heyday, che è uno dei giochi più dimenticati di Supercell assieme a Boom Beach, come un gioco per adulti. Alla fine chi è che si mette a curare una fattoria, a cudire gli animali, coltivare le piante? Ovviamente sto scherzando e ne ho avuto riscontro soprattutto recentemente, perché Heyday è riuscito a diventare di moda pure su TikTok. Ma se c'è una cosa che non vi ho fatto vedere, quella è la mia fattoria. E preparatevi perché io sono un tryharder in ogni gioco Supercell, vi stupirete quando farò anche il video di Boom Beach. Nel frattempo bazzichiamo qualcosa qui. E mi raccomando, lasciate un bel like se volete vedere un altro video, soprattutto sulle strategie di come farmare le cose per potenziare sia il silo che il granaio, se non erro si chiama. Ma basta parlare e andiamo subito ad aprire il nostro bellissimo gioco. Heyday con la sua tururum tun tun. Beh, me lo apri, vero? Non mi stai per dare tipo un errore di connessione. Perché non mi sta aprendo i day? Ragazzi, mi sa che oggi non possiamo giocare... Ah no, eccoci qua! Con il nostro corvo che va giù in picchiata, i nostri due tizi che già ci vogliono dare le cose scontate. Non so perché nel cloud mi trovo che ho una fattoria di livello 1, ma io ho Lorenzo's Farm, non gli ho mai cambiato il nome, è un po' cringe di livello 46, anzi, non mostrammelo più. Ho anche un pacco da ritirare, che cosa mi hanno regalato? È stato uno spasso, ci siamo divertiti un sacco, ma purtroppo anche quest'anno la stagione di Halloween è giunta al termine. Tutti gli oggetti che ti erano rimasti sono stati convertiti in monete. 27 monete! Grazie, davvero mi saranno utilissime! Non ne ho tipo 120.000. Ok, qua ci sono cose ovviamente che si possono shoppare, e tra l'altro, ragazzi, incredibile ma vero, si può mettere il codice LolloChef anche sui day. Quindi se shoppate il passo o qualsiasi cosa, mi raccomando, inseritelo qui nel negozio. Per aprirlo basta schiacciare in alto a destra. Ricompensa gratuita, grazie mille. Comunque quelli che dicevo prima sono sì, il granaio e il silo, mi ricordavo bene. I miei non sono super giganti, ma ho trovato da poco un modo assurdo, soprattutto per quelli che hanno appena iniziato a giocare per sbloccarli. Forse già lo conoscete, in caso fatemelo sapere nei commenti. Da che cosa partire? Non lo so. Che cos'è questo libro qui? L'inverno sta arrivando. Nuove collezioni, va bene. Poi scopriamo che cosa sono le collezioni. Fammi vedere tutte le pagine, così mi toglie la notifica. È la mia ADHD, purtroppo no. Ti prego, toglimi quella notifica. Ah, devo aprire e chiudere questo libro all'infinito, vero? Eh, mi sa che devo fare proprio questa cosa. Questi due tizi qui vogliono venire da me gratis? Perfetto. Venite gratis quando volete, vi metto un po' di cose random, giusto per. Mi fingo esperto, in realtà non so che cosa sto facendo. Perfetto. E vabbè, tu stai già lavorando per me. Tu, tizio, veni pure gratis se me la tua moglie. Fammi un 5, 5, magari questo un pochettino meno, questo pure, e un pochettino più di zucchero. Che lo uso spesso. Altro zucchero, altro zucchero. Qua possiamo anche aumentare un po', dai, facciamo così. Perfetto. Allora, per chi ancora non lo conoscesse, questo gioco si basa letteralmente sul farmare oggetti, avendo tutti i tuoi macchinari, e ovviamente coltivare. Una vera e propria fattoria, come si deve. Hai il tuo giardino, che piano piano puoi espandere, come nella vita reale, non con i soldi, ma utilizzando questi certificati, questi mazzuoli, questi paletti che si trovano in giro. Hai tutti i tuoi bellissimi animaletti, di mucche, galline, capre, il loro coso per fare il mangime, e ci sono anche questi altri animali, che invece ti danno quelle ricompense, che vi ho appena fatto vedere, che servono proprio per il silo, per il granaio, e per far funzionare meglio il tutto. Sono molto dispendiosi, però, posso dirvi. E sono anche molto difficili da ottenere, perché servono questi strani ticket, che abbiamo trovato anche poco fa. Svegliamo i conigli, diamo da mangiare al volo ai miei cavallonzi. Posso prendere qualcosa? Fammi vedere che cos'ho. Non ho niente. Non ho... Sono povero! No, adesso ne ho messo pure quella cosa strana per sbloccare i finicotri, gli aironi. Lo gioco sta iniziando a diventare complicato. Era abbastanza semplice una volta, adesso... Cavacca. Allora, posso dirvi, non sono magari la miglior persona in assoluto a decorare. Sinceramente, non è che sia sto granché la mia fattoria. È tutta un po' vuota, però ci ho provato, ok? Ho messo qualche muro qui, giusto per spezzare, qui un po' di sentiero. Qua ho fatto delle decorazioni, qui una forma di cuore, un'altra forma di cuore con dei muretti. Ehi! Ti ho visto che non ti sei iscritto al canale e soprattutto, mannaggia te, bevi i tuoi due litri d'acqua al giorno che ti fanno bene per la tua salute, mi raccomando. E non mi pagano per dirvelo, non ho l'etichetta. Qualcosina ho fatto, però se avete dei design o delle foto, mandatemela e vi prego, perché sto cercando disperatamente qualcosa da aggiungere. Oh, si sono addormentati i nuovi cavalli. Guarda, hanno mangiato, ci sta. Finché mi date ricompensi non sono... Ah, c'ho anche un asino, mi ero dimenticato. Vediamo qui cosa possiamo mandare. Posso mandare alla fabbrica di Franco tipo lingotti infiniti che sto usando proprio per sbloccarmi quegli animali. Qui mi dà un regalo se mando... Ah, posso mandarne più assieme? Bello, non lo sapevo. Tempo fa non si poteva fare, dovevi tipo aspettare. Eh, questi li togliamo tutti che non voglio dare via troppe risorse. Chizzi, cosa vogliono? Cose che non li venderò mai? Assolutamente no. Un altro regalo, sempre 27 monete, grazie. Quale varie ricompense del caso? Ah, ha fatto più ordini. Puoi mandare tre ordini alla volta ora. Mi posso anche vantare di aver fatto qualcosina a oro 3. Praticamente ho fatto la maestria della fonderia che serve per sbloccare tutte queste cose che ti portano più oro, più esperienze e soprattutto sono molto più veloci. E cambia anche il design perché appare una stellina. L'ho fatto anche del barbecue, l'ho fatto del forno a pasticci, l'ho fatto anche della gelatiera, della stufa per popcorn, dello zuccherificio e dovrei essere vicino anche con la macchina da cucire, esatto. Con la marmellatiera sono super vicino, vabbè, strattone di mele è un pelo più complicato. La painetteria l'ho fatto, la zupperia sono a zero, il chiosco del caffè sono a zero. Vabbè, diciamo che ci sono ancora delle migliorie che si possono fare. Andiamoci a piantare quello che serve. Sicuramente delle carote che mi vedo anche abbastanza a basso. Il grano lo posso comprare, se sono fortunato e lo riesco a trovare qui ma di solito si trova sempre, è vero? C'è una crisi di grano adesso. Vabbè, c'è il grano turco, ditemi che non l'hanno comprato, ok? Ci prendiamo manche tre di grano turco. Uh, pure un asse di legno, va che fortuna. Sto appena iniziato a giocare, è livello 10 il bro. Manco il... Ce le ha ancora grigi sti cosi. Obiettivo del giorno, riuscire a riempire tutti i miei macchinari, riuscire a riempire questo terreno qui. Magari anche far partire qualche ordine qua, se non addirittura riempirli tutti. Perché se io chiedo aiuto e riesco a trovare del pane, li potrei riempire tutti. Questi sicuramente li riempiamo, che sono comunque risorse. E poi andiamo nel secondo villaggio, perché da poco hanno messo anche questa feature. E vediamo che cosa riusciamo a fare. Ho decisamente troppi abitanti. Porca va... Oh, ricompensa gratis. Grazie. Non mi serve nulla, però ti ringrazio. Qua ho sbloccato ogni cosa e ho una sola giraffa, che sta morendo di fame da non so quanto tempo perché non riesco mai a fare il grano. E sono sempre povero di risorse, vabbè. Proviamo la casa base. Finiamoci anche la ruota della fortuna. Oh! Dai, pot... Guarda, sei bloccata apposta! Potevi andare avanti! Vai, momento ludopatico su Heyday. Ti prego! Sì! Let's go! Giriamo ancora se mi dà un'altra stella, godo, eh. Guarda che me la dà, guarda che me la dà. Oh! Let's go! Oh, va benissimo! Sono a corto di quelli, ve l'ho detto poco fa. Ah, e poi sarebbe bello anche mettere qualcosa dentro alla bancarella. Ma, tornando a noi, io stavo cercando del grano. Vediamo se lo riesco a trovare, boh, aprendo una fattoria a caso che vende la lana, no? Nessuno li vuole comprare la lana, questo vende zucche e nessuno li vuole... Oh! Ma che fortuna, però! Questo è difficile da trovare. Si è appena rifresciato il negozio, allora grano? Grano e vite! Godo! Tanta, tanta roba! Andiamo avanti altro grano che è già stato venduto. Perché c'è questa carestia di grano? Non ho capito. Il grano una volta era una roba che non ti comprava nessuno, tutti lo vendevano, invece adesso... Vabbè, meglio così. Se io tornassi indietro vendono ancora quegli anelli lì. Oh, questi anelli sono devastanti. Guarda quanti... No! La tentazione di prenderli tutti per poi rivenderli soltanto per fare dell'oro è crazy. C'è una cassa? C'è la cassa grossa! Uh! Due! Bono! In teoria, se io vado qui, posso prendere anche quello nell'acqua sua, esatto, che mi dà il seghetto. Andiamo anche a trovare Greg che è una cosa che... Uh! Aspetta! Home gratis per 25 ore. Vabbè, adesso che non gioco tanto non ha molto senso, però buono. Andiamo a trovare Greg che una volta al giorno ci dà delle cose super succose e forse anche qua posso trovare una cassa se ho l'occhio di trovarla. No, non ho l'occhio ma forse nemmeno la posso aprire. Io, tra l'altro, nei miei amici ho una persona a livello 506 che si chiama Sweet Memories 504 che cacchio di villaggio ha! Ma io non so nemmeno come effettivamente ce l'ho negli amici. Cioè, che cosa ho fatto per avere l'amicizia di questa persona? Boh! Cioè, per farvi capire io ho 1276 punti lei ne ha 2.867.000 E lei nella classifica globale? No, ok. Cioè, vabbè, qua c'è gente che è a livello 800. È lì però, eh. È qua, è nella top 200. Brava, Sweet Memories 504. Oh, bravo. Però penso sia una ragazza. Ho questo vago ricordo. Allora, già che ci siamo piantiamo le carote così andiamo a finire questa cosa qui. Poi mettiamo un po' di pomodori che sicuramente servono e li utilizzerò quindi non li metto tutti. Un po' di zucche. C'è altro. Oh, queste 4 patate che sono stra corto. Un po' di fragole ma non troppe. Vediamo se riusciamo a reperire altre cose che mi servono tipo delle zucche potenzialmente mi potrebbero anche mezze servire. Poi mi potrebbe servire carbone. È comodo soprattutto se vende anche altre cose e uno di grano glielo buttiamo dentro come piccolo acquisto. Indaco non ci serve. Carbone sì. Lo prendiamo volentieri. Ah, ho il granaio pieno. Bene. Ho un miglioramento gratuito. Oddio, mi ha dato un miglioramento gratuito. Grazie. Aspè. Lo posso fare anche del silo? Ti prego, dimmi che si può fare anche del silo. Si gode. 625 e 575. Ho dato un po' di distacco però andiamo a prenderci il miele. Chiediamo anzi no, non posso nemmeno chiedere aiuto quindi qua dobbiamo sostituire praticamente questo coso di miele. Lo mettiamo lì. E qua boh, vorrei mettere più patate però non ne ho la grandissima possibilità ora. Facciamo un po' di pomodori. Vorrei trovare delle patate e dei pomodori nel negozio ma quant'è la possibilità che ciò succeda? Molto bassa. Prendiamoci pure delle more con cui posso fare magari delle marmellatonze. Buttiamoli dentro 6 più che altro perché ho le lavoratrici automatiche. Allora qui cerchiamo di tenerlo libero magari per delle patate extra. Popcorn. Allora per i popcorn i più facili da fare sono questi qui perché richiedono semplicemente peperoni e grano. Questi richiedono il miele che al momento non ho e questo richiede del burro. Burro possiamo metterlo perché tanto è in preparazione. Uno base farei un paio di questi che alla fine si riescono comunque a vendere soprattutto in sto periodo. Qua abbiamo il tipo che ci lavora da solo quindi non dobbiamo metterci nulla. Qui possiamo fare una torta di feta perché abbiamo anche il formaggio a disposizione che si vende molto bene. Pasticcio di carne lo farei se avessi purtroppo delle patate che ho usato tutte proprio per fare lui. Pasticcio di pancetta. Poi abbiamo la gelatiera. Gelatiera si butta sicuramente il miglior gelato mai costruito su questo gioco che è il gelato alla fragola. 4 di gelato alla fragola. Qua ho bisogno di fare un po' di tessuti di cotone per altre cose. Questa l'ho goldata no? Telaio oh anche il telaio è stravicino eh. Mamma mia quella patata me la cucinerei subitissimo ma purtroppo non posso farlo. Pomodoro me ne metto giusto uno e qua sfrutterei le uova che ne ho assai per fare pancake giusto per riempire un po'. Qui che cosa abbiamo? Tante cose che si possono mettere ma non ho le grandi risorse per farle tutte. Qui posso mettere queste due torte una cheesecake sicuramente e mi sa che andrò avanti a cheesecake. Anche il forno torte lo finisco adesso. 1025 con tutte queste ore qua si ci arrivo eh. Si gode. Macchina da cucire pure molto 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 vicina. Abbiamo 15 di questi quasi da cowboy. Non posso farne altre però più che altre perché non mi ha ancora preparato quelle quindi appena sono pronti ci buttiamo su un po' di camice. Quale marmellate che vi dicevo mettiamo un tre di queste e una di queste qui ai lamponi. Miele sì possiamo fare del miele anzi dovrei pure sbloccarne un altro di miele almeno facciamo dei piccoli upgrade. Panetteria possiamo fare una pizza speziata pizza e frutti di mare non ho le risorse per farlo questo qui è quello che di solito faccio io magari posso fare dei muffin alle more vediamo se riusciamo a trovare delle patate e delle ulteriori more. Alla fine il trucco di questo gioco è semplicemente avere fortuna qui oppure essere veloci. Io sono veloce? Assolutamente no sono fortunato un pochettino di più qua posso prendermi un po' di more il carbone che qua si vende tutto gli anelli di diamanti non ci interessano questo però sì e se andiamo nel tipo che vende il blocco di pietra di solito vendono delle cose assurde no. cose per uh bello però guarda guarda questi ha vabbè è livello 94 però guardate che bella fattoria guardate quanto è decorata ha fatto pure tipo una mini caccia al tesoro di halloween c'ha tutto sbloccato perché la mia fattoria non è così? Cosa sto sbagliando? Ve lo giuro cioè dovrei aver tutto sbloccato anch'io di questo sono livello 46 mi manca un botto di roba questa cosa ti da no devi guardare il trailer una volta te lo dava gratis quando il gioco era tornato un po' in hype non dovevi più tra virgolette andarci a perdere qui prendiamo i nostri maialonzi anche se sono gestiti giustamente dalle persone corrette che ci stanno anche facendo il mangime quindi il mangime non è una cosa di cui ci dobbiamo preoccupare qua ho altri cavalli che devono mangiare quindi li mettiamo da mangiare zuppe questo è sempre un tasto dolente non ho i pomodori cacchio il resto delle cose ce l'ho adesso vediamo se riusciamo a trovare dei pomodori io posso farmi un succo di frutti di bosco pomodoro non lo posso fare mela non lo posso fare carota ne posso fare uno cegliegia non lo posso fare sono davvero davvero a corto di queste risorsine dai pigliamoci delle mele sempre che non le abbiano già prese godo non hanno preso le mele c'è pure il grano grazie oh posso già prendere le carote mamma mia ma crescono stra veloci ripiantiamole anche subito che ne ho abbastanza bisogno e le piantiamo anche di qua già che ci siamo posso aggiungere altro posso aggiungere altro dei biscotti non posso dietro no non c'è niente se non questo pane integrale bene caffè il problema del caffè mio è che forse non ho il caffè anzi no ho il caffè ma non ho lo zucchero che mi è richiesto in ogni ricetta qua invece mi serve il cacao devo piantare giù qualche alberozzo sentiamo la nostra fortuna dinamite la dinamite è buona oh guarda questo oh no come il granaio è pieno non adesso oh cacchio migliora ora non ho le risorse vabbè abbiamo trovato delle buonissime cose questo come com'è che è a livello 87 e c'ha così piccolo vabbè e hanno tutto sbloccato guarda come fate o che ci giocano 70 ore al giorno non me lo spiego allora per svuotare un po' il granaio che cosa possiamo fare possiamo iniziare a fare lingotti a stecca qua li metto finché si può qui metto quelli in oro qui metto quelli in carbone e nell'ultimo se l'ho a disposizione ho un po' di platino non ho platino molto difficile da trovare il platino questo ne ho praticamente infinito e lo stesso vale per il carbone quindi facciamo così e qua farei a spodre un po' con della dinamite nella speranza anche di trovare qualcosa di più succoso ma sono sempre le solite alla fine bene facciamo un salto dove c'è il pescatore dovrei aver messo delle aragoste la vasca aragoste è piena ok andiamo a tirar fuori le nostre bellissime aragoste andiamo a prendere le trappole e le rimettiamo anche già subito allora vasca per aragoste mettiamo una di queste però a sto giro poi mettiamo una aragosta una di queste per la carne del pesce e una aragosta alternate e qua boh facciamo degli ami giusto per farmare le ore ma non ne ho davvero bisogno se qualcuno fosse interessato questa qui è la mia collezione ho finito soltanto la carpa ramata sono vicino con il salmone del danubio della spigola ne ho trovata soltanto una salmone rosso l'ho platinato basta altri pesci mai trovati ma perché non uso quelle esche strane a pagamento che molti usano io personalmente non ne trovo l'utilità anche perché il pesce è pesce a meno che sei un collezionista la tipa cosa vuole? no tu vuoi 15 delle mie 15 uova secondo te io ti do 15 delle mie 15 uova bro non hai capito? proprio un cacchio oh fragola buono prendiamoci la fragola prendiamoci anche le mele che sono succosissime questo vende anche cose utili certificati eccetera eccetera bulloni vabbè li avranno già venduti sicuro infatti addirittura ha già cambiato il negozio già praticamente clickbaitato lingotti d'oro ecco li hanno venduti davanti ai miei stessi occhi apriamo questi qui che vendono grano turco che vendono spesso anche cose molto utili quindi dovrebbe sempre controllare un po' tutti i negozi c'è anche chi clickbaita con le cose sbagliate tipo i frammenti di mappa chi è che li vuole però magari apri il negozio e vende anche i bulloni toh o il trapano a mano no vabbè questo viene solo trapani a mano mele 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 e poi una strategia che a me piace però è altamente sconsigliata vado qui e vendo letteralmente ogni singola cosa che ho tipo ho questi lingotti d'oro al momento li posso pubblicizzare sì ma non lo pubblicizziamo li metto in vendita perché sono troppi ho i gambali da cowboy li metto tutti in vendita ho 10 di questo latte di capra lo metto tutto in vendita e così via anche qui ho 10 bracciali oggettivamente mi conviene venderli alle altre persone e non agli abitanti del villaggio se non per ottenere quelle cose orribili per sbloccare gli animali e anche questi al momento non mi servono non mi interessa nemmeno riempire le barche quindi li vendo a persone che ne fanno un utilizzo migliore del mio e con i soldi compro i macchinari faccio progressi eccetera eccetera questo è sempre come ho giocato io forse è il metodo un po' più longevo è meglio anche per l'esperienza dare alla barca e si ottiene anche di più però onestamente a chi interessano queste cose? ognuno ha il suo playstyle succo di pomodoro a 1134 euro è crazy comunque gambali da cowboy che di solito non si prende nessuno ma clickbaiteremo con quelli così chi viene nel negozio realisticamente compra anche tutte le altre cose di solito sono player livello 100 inoltrato che davvero si shoppano tutto torta di fragole mi fa strano giocarci dalle patti ho sempre giocato dal telefono c'è tipo lo schermo gigante non riesco a mettere il prezzo tre pane di patate poi tanto anche se nessuno compra arriva Greg che ad una certa fa ehi bro te le ho comprate io le cose non ti preoccupare è un grande Greg tiri avanti l'economia abbiamo quattro pasticci di pancetta rimasti un po' guarda quante cose che ne abbiamo solo una mocaccino e lamponi ci frutta sicuramente molto bene qua dobbiamo prendere delle scelte tre marmellata di ciliegie e magari metterei due popcorn al miele sì e clickbaiterei con questi qui che costano 3.096 super super costosi ma è uno degli oggetti che te la claccia fin dall'inizio del gioco vediamo in quanto tempo li vendiamo nel frattempo cerchiamo qualcosa di nuovo oh pomodori ti prego guarda quanti quanto godo glielo ho praticamente comprati tutti ma mi sono sentito un attimo gasato pure il ferro buonissimo ha pure il platino godo bene questo si è venduto tutto e glielo compriamo noi oggi fortunati eh questo vende anche altro no vende solo oro livello 200 tra l'altro anello di diamanti anello di diamanti si fa con i diamanti non mi piace troppe risorse inutili carbone sì ma c'è anche molto di più del carbone ce li prendiamo per rivenderli noi per aumentare il fatturato giornaliero li rivendiamo allo stesso prezzo questo è arrivato si è comprato due cose e se ne è andato ok bro mettiamo magari delle code no le code di ragoste ma sì dai metà code di ragoste le possiamo mettere poi metterei anche le torte di fragola mi hanno preso altro nel frattempo purtroppo no ma sono sicuro che arriveranno a breve questi sono bei soldi eh qua le carote sono già cresciute a breve cresceranno di nuovo ho bisogno di piantare altro forse ho bisogno di prendere un po' di grano ma questo si può trovare anche tranquillamente nei negozi questo veniva a 10 di grano a 10 e ora a 36 ma noi glielo prendiamo lo stesso perché ne abbiamo bisogno e considerando che c'è la tipa che lavora per me mi prenderò anche queste bene ora sì che possiamo fare le nostre zuppe le avevamo già riempito che cosa manca? manca il chiosco del caffè per cui mi servirebbe trovare dello zucchero non è che me l'hanno prodotto nel frattempo no zuccherificio come sta messo 11 minuti andiamo un attimo a forzare e mettiamo anche un po' di questi per la prossima volta e uno di questi è normale giusto per questo è il negozio aggiornato vediamo oh 10 di pane 10 di pane questo qua l'hanno già venduto lo sapevo questi sono quelli che hanno il cavo Ethernet attaccato al tele oh latte ti prego difficile trovare il latte eh anche i lamponi molto interessanti questi hanno il cavo Ethernet attaccato all'iPad zero di ping si comprano le cose instant in un secondo oh attenzione perché qua stanno shoppando dal mio negozio metterei un po' di questi giusto per liberarmi 2 pomodorini 2 torte di zucca queste di solito le prendono anche abbastanza velocemente 3 abiti viola 2 popcorn al burro qua c'è qualcuno che mi sta comprando mentre metto fuori le cose stanno tipo lurcando sulla mia fattoria prendetevi tutto quello che volete caffè latte marmellata di more guarda guarda che li stanno comprando eh guarda guarda qua ma comprate anche le altre cose guarda quanto c'è poli poli tizio con un nome stranissimo succo di carota che mi frutta pochissimo pasticcio di carote maglione blu mettiamo in vendita tutto finché sono sopra il mio negozio e comprano io sono contento formaggio di capra le zu ponze di aragosta che costano assai c'è poli poli sul mio profilo eh che vede che sto vendendo tutto metto un biscotto una marmellata 2 caffè espresso basta non ho più niente da vendervi quindi vi dovete accontentare delle cose che ho messo mi hanno lasciato quelle un po' più mainstream ma siamo arrivati a 135.000 monete un bel profit oggi eh qua ci prendiamo le carote siamo strapieni mettiamo le zucche che ho quasi finito un po' di indaco in questa piccola parte rimasta mettere i peperoncini no ho sbagliato devo mettere i peperoncini non li ritroverò mai i peperoncini 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 eccolo qua ti prego godo riuscito a trovare i peperoncini subito aspetta andiamo nella fattoria di quello che ha il gambali a mano e vabbè questo quanti gambali a mano ha bro anche qui mi viene voglia di prenderli per alzare il fatturato ma non lo faremo qua nel frattempo si è preparata anche una pizza andiamo nel secondo villaggio giusto per vedere se possiamo riempire qualche ordine ma la vedo dura ora ah li dobbiamo mandare nei vari locali nei vari posti li riempiamo un po' tutti e poi vediamo cosa ci chiedono trattoria trattoria cinema troppi abitanti in sto villaggio anche perché saranno qui da tipo un anno grazie questa è contenta la mandiamo via sì sono sicuro bro che ti voglio mandare via tu pure tu vai nella trattoria tu vai nel cinema che cosa mi chiedono cose e vabbè praticamente no questo si può fare questo lo facciamo questo non ho nel cacao nel pane il pane mi serve per la barca un ghiacciolo e niente di che qui non si può fare praticamente nulla qua è molto semplice in realtà anche quello lì lo stiamo facendo questi qui li soddisfiamo praticamente a tutti la prossima volta è qualcosa che posso fare al fly no oh mi è arrivata una richiesta amicizia da poli 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 oh bro se mi mandi la richiesta di amicizia per comprarmi io sono solo che contento qua ringraziamo i tizi che mi hanno dato una mano qui lo zucchero che purtroppo mi serviva non c'è più e secondo me ragazzi per essere il primo episodio sono super contento di come è uscito siamo stati anche molto fortunati mi raccomando lasciate un bel like se ne volete vedere altri la prossima volta in caso vi insegno come si sbloccano un sacco di oggetti per il silo e per il granaio se volete vedere altri miei due video io ve li lascio qui e noi come al solito ci vediamo al prossimo ciao lacustri e buona giornata